Ciao a tutti, oggi sono qui per presentarvi una nuova funzionalità aggiuntiva, un nuovo componente aggiuntivo, un add-on, destinato a Meet, si chiama Tab Resize e ci consentirà di vedere tutti i partecipanti alla nostra lezione anche mentre noi stiamo condividendo lo schermo. Questa è una delle funzionalità che mi avete chiesto più spesso, che mi sono state sollecitate diverse volte, ora vediamo come funziona. Per prima cosa dobbiamo andare su Chrome Web Store, dovete semplicemente digitare Chrome Web Store, il primo risultato che esce è quello corretto e inserite all'interno della ricerca il nome del componente aggiuntivo, Tab Resize, è questo, è il primo, e fate Aggiungi. Consentite di aggiungere l'estensione e dopo pochi istanti vedete che è già fatta, vi comparirà qui questa piccola icona con scritto New. Per questioni di comodità, perché poi il video si rimpicciolisce, io vi consiglio di trascinarla qui accanto alla barra di navigazione. A questo punto possiamo andare ad avviare il nostro Meet. Adesso qui non c'è nessuno, però io posso avviarla. Ed ecco che io sto partecipando, come vedete, alla mia riunione. A questo punto posso andare in presentazione e posso cominciare a lavorare con la mia icona. Per presentare, in questo caso, sceglierò una finestra e non il tuo schermo intero. Accetto, accetto. E vedete, posso scegliere come avere la mia visualizzazione. Posso scegliere se averle affiancate, posso sceglierle se averle una sopra l'altra. Mettiamole affiancate. Ecco, a questo punto io avrò affiancata la mia presentazione da questo lato. Ad esempio, potrò scrivere, che so, il Corriere della Sera o The Guardian, non so. Mostrare quindi quello che intendo agli studenti, tenendoli da questo lato dello schermo sempre sotto controllo. Agendo sulle frecce, io posso tornare di volta in volta alla mia visualizzazione normale. Ora, invece, prima abbiamo usato questa modalità, cioè abbiamo richiamato Meet con accanto una tab vuota. Ora possiamo invece andare, cioè una pagina vuota di Google, invece possiamo scegliere di aprire, per esempio, una single tab. E scegliere questo allineamento. A questo punto, vedete, avrò salvato da questa parte una delle mie attività, uno dei progetti che voglio far vedere. Agli studenti posso tranquillamente tenermene sotto uno e loro vedranno che cosa ho sotto. Questa app può essere, questo componente aggiuntivo, scusate, può essere scaricato anche dagli studenti. Quindi potranno anche loro avere questa, se lo desiderano, se voi avete la necessità che lo utilizzino, possono avere anche loro questo tipo di add-on, facendo la medesima ricerca e seguendo la stessa procedura che avete seguito voi. Può essere comodo anche per loro averlo, perché da un lato possono magari seguire la vostra presentazione, vedete, mentre dall'altro possono aprire un foglio e magari prendere degli appunti. Ecco, uscire dalla nostra presentazione, dalla nostra modalità di schermo condiviso, sarà sufficiente fare clic sull'icona verde e torneremo, finiremo di avere lo schermo condiviso e torneremo semplicemente alla modalità in cui abbiamo la presentazione con Meet. L'utilizzo di Tab Resize non impedisce l'utilizzo, ad esempio, della griglia, quindi potete utilizzarli contemporaneamente. Questo è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltata.